Ah, per fare la fontana di nuovo! Scusate, dai, prendi. Vieni qua, mi basta delle pizze! Che ti fa anche i ragotti? Ma vabbè, le pizze, la te sa cosa! Ma vediamo qua! Cioè, ma io lo faccio a molto bene! Ah, no, 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 no! Ma non lo devi fare! Non lo so, non lo so! Ah, Daniele! Tiagelo, prendimi bene! È normale! Ma ora la ti ha messo con Facebook! Su Facebook la dobbiamo mettere? Sì! Nella sera della festa le facciamo una bella sorpresa! Ah, si, ti fa sempre in ottobre! Da quando voglio le dici quando le mettiamo qua? Ehi, da quando le dici... Ehi, da quando le dici... Ehi, da quando le dici... Non basta, ti ho detto ci vedrei io! No, no, no! Non, non, non! Ti devo far vedere io come si fa! Che devi fare? Appunto! Un vero male! Che cosa? Una cosa parla... E non ho sentito... Ci ho sentito fastidio! Ci ho sentito fastidio! Ughi e concernsi con la bianca le metano! Que ce fati fai客 Bakero? Ero mal aminato! Ero mal aminato! Ero mal aminato!